Ok bestia, riprendiamo. Facciamo attenzione, siamo vicini a uno dei loro posti di guardia. Cioè adesso siamo in quattro? Un nutrito gruppo. Aspetta, aspetta. E, eccolo. Ci siamo. Bene. Vediamo che c'è qui. Iniziamo il fucile. Dieci. Oh, finalmente. Le coltri, la cui durata è al massimo, non si spezzano se sono state per sfuggire alla presa di un clicker. Cento. Oddio. Ce la farò mai. Schiacchi. Andiamo nel cesso. Niente gioia. Oh. Adesso ne ho dieci. Me ne servono. Allora, la prossima volta che abbiamo trenta, facciamo così, velocità cura, facciamo. Anzi, anche questo prima. Distanza, modalità d'ascolto, così ne becchiamo. Becchiamo anche più lontani. Non ci sfuggono. Allora. Ellie, forse ho trovato un altro di quei fumetti che stai leggendo. Che bravo. Le sto trovando tutti i fumetti. Signore, ci sono. Proseguite pure. Solo tu e papilla. Non è mio padre, siamo più, come dire, il... Eh, siamo più, come dire, amanti. Ci sparo, così, il tizio. Aspettate. Fate silenzio. Via dalle finestre. Andate. Merda. Quel cazzo di camion. Ci tallona da quando siamo arrivati in questo... Sam, cosa fai? Niente. Lascialo lì. Il mio zaino è praticamente vuoto. La regola sulle cose da prendere. Non pesa niente. La regola. Qual è? Prendiamo solo il necessario. Esatto. Ora andiamo. Poverino. Però è lontano questo posto. Ci siamo quasi. Manca poco. Di certo non ti mangi un giocattolo. Secondo me, sbagliamo a fidarci di questi. Perché sei spostato? Eh. Merda. Cos'hai trovato? Coprici le spalle. Sotto. Sam, resta con lei. Ok. Andiamo a fare un altro giro. Controlliamo se c'è altro. Va bene. Da un'occhiata là giù. Questa zona. Controllo qui attorno. Controlla là giù. Vediamo. Cazzo, cazzo, cazzo. Ok, bravo. Cambia strada. Ci sono tre. Ci sono tre, mi pare. Oh, oh, oh. Cazzo, cazzo. No, non tornare qui. Sì. No. Allora, uno lo posso far secco con un colpo. Tipo questo. Merda. E' una figata che lo trascino dietro il muro. Ehi. Dove è quel tipo? Aspetta, c'era l'altro. Non mi ha visto. Bene. Ok, ok, ok. Ce l'abbiamo fatta. Non male, veterano. Grazie, contestamente. Qui c'è la fatica, infatti. Tagliamo sul camion. Ho visto qualcosa di luminoso. E' dentro l'edificio. No. Altri due. Un vetrone di cadavere. Ok. Porca puttana. Hai visto? Basta. Ti ho visto? Preggio. Ok. Libero. Niente. Niente, neanche due. Da questa parte. Ed è sicuro? Sono così vicini. Io sono l'unico ad avere la chiave, amico. E dove l'hai presa? Ne ho ammazzato uno. Tanto non gli serviva. Forse di qua. Sì, aspetto. Prima di andare lì, fammi contro l'olore. Ecco una piastrina. E ve la faccio vedere, anche se sembra sempre uguale. Allora, come ti arrivi? Io? A te. E tu? Lo stesso. Hai 14 anni, eh? Quasi. Certo. Davvero. Aspetta. Aspetta. Ah. Ah. Sono ribellato e li hanno uccisi Ottimo Eccoci Aspetta Non ho controllato qui Cinque Forse possiamo fare qualcosa Cazzo Me ne mancano ancora dieci Non parlano ci sia nulla No, non c'è niente Benvenuti nel mio ufficio Da quanto tempo siete chiusi qui? Qualche giorno Abbiamo un po' di cibo però Vieni Mirtilli Ne abbiamo trovati un sacco Ne vuoi un po'? No Ehi amico, rilassa Ti siamo al sicuro qui? Non siete scappati, perché? Aspettavamo il momento giusto E? Vieni Dai un'occhiata qui Guarda quei figli di puttana Tutti i giorni si radunano lì sotto E sorvegliano quel dannato ponte Ma di notte Ti mancano in pochi di guardia Dobbiamo provarci Dopo il tramonto Una volta andati Proviamo a passare Può funzionare No, funzionerà Funzionerà di certo Aspetta, aspetta Ne ho un altro Guarda Sono bravo Aspetta Ai! Ferita da un mirtillo Ero da tanto tempo Che Sam non rideva così Lei non sembra molto preoccupata Dove stavate andando? Ho sentito che le luci Hanno la base verso ovest Ci uniremo lì Già È divertente? È solo che ultimamente Sembra che tutti Facciano affidamento sulle luci Già Magari c'è un motivo Quindi non sai dove siano E lo stai trascinando Per tutto il paese Per trovarli Sai che ti dico? Io mi preoccupo di mio fratello E tu della ragazzina Tranquillo Anche noi stiamo cercando le luci Noi siamo qui C'è una stazione radio militare Abbandonata Subito fuori città I sopravvissuti del nostro gruppo Si incontreranno qui Domani Tu e lei potete venire con noi Partiamo stanotte Allora faremo meglio a riposare Allora faremo meglio a riposare Dice che è ora di andare Ci muoveremo in fretta Ok Quindi tu resti attaccato a me Come colla Come colla Come colla Capito Bene Bene Ok Pronti? Sì Ok Bene Stiamo vicini Ok Ok Ti hai già provato? Ecco qui Ci siamo Allora Rassicurante Ti rilassati vecchio Spero che tu conoscano la strada Vecchio Ti ha chiamato vecchio Questo è razzismo Boh Siamo a rifornimento Prima di andarceli Come sempre Cos'è questo? No niente Qui? Niente Andiamo Sopra o sotto? Sotto E se andassi sopra? Quanto ci commettete che trovo tutto bloccato Non l'immaginavo Scendete Andate nella luce spenta Caricchiamo Ok Cerchiamo di farli fuori senza fare troppo rumore Ehi Ti seguo Bene Cerco di restare al caldo Come va là fuori? Abbiamo eliminato qualche infetto Ma nessun segno dei turisti Credi siano ancora in città? Sì Sono ancora qui attorno Ok Vado a fare un altro giro Guardate le spalle Prese Ok andiamo No 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 Che è sto rumore? Vabbè lui tipo sparisce, non ho perdo di vista Ah se non spari ok Oh merda sono anche click Aspetta, eccolo, laggiù Occhio Non l'hai beccato, si muove ancora No, no, cazzo Un'altra idea Un bel cacchio di arco Che cazzo non fa rumore E lì il ragazzino dove diamine sono? Sono rimasto indietro, mi scopo Joel c'è un tizio sul riflettore Lo vedo Lo so Il problema è A parte il tizio sul riflettore C'è anche questo idiote Che sta girando un secondo qui Porca puttana, hai vinto Ma mi ha beccato, vero? C'è guardate Ma vi sembra una cosa normale? Guarda, c'è, c'è, dai, scusate Però un'idiozia questa, eh Vabbè, comunque sia Non profino l'esperienza Ma È armato Trova qualcosa per nasconderti Eccola che arriva, al front E' esplodato qualcosa Ragazzi, controllate la strada Fai una cosa del genere, faccio prima Fai una cosa del genere, faccio prima Cazzo, cazzo Cazzo, cazzo No, no, è lui Bene, ce l'abbiamo fatta Minimo poteva distruggere anche questo Non so, non so, non so Vabbè Harry, dammi una mano Ok, pronto No, no, no La domanda è quanto resisterà Aspetta, aspetta Ehi, sono qua giù Guarda Oh no Oh Cristo Centro Davanti, andiamo Ok, controlla Vai, vai, vai Ok, tiriamolo su Mi dispiace Andiamo Cosa? No Che stronzate Ehi, ora Che stronzate Che stronzate Restiamo insieme Cosa è di merda Aiutati Andiamo Pezzi di merda Pezzi di merda Abbandonati Spero muoiono Si meritano Di crepare Si meritano Si meritano Di crepare Oh no Capri Capri Ok 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 Starebbe un altro E' lì Cristo Ma Cioè, guardatelo Ma E' lì No Questo non lo vedete Ah Piccato Su, avanti E' lì Guarda Sì Stiamo bene Non ho mai avuto Non montarti la testa E colpisci la loro Non ho mai avuto una compagna di battaglia come Ellie Che bravo L'avete visto L'avete visto Come accoltelava il tizio Giorimenti Dove andare lì Diavolo Aspetta Devo Capire Quello Lo tiro Per andare Dove Sposa Tieni Forse lo sfondo No, non è vero Eh, ok Lo tiro Per Non capisco Ma Faffanculo Tre ore Così Cercando di capire Dove merda Mettere quello Dove ho semplicemente Spostarlo Per aprire la porta Passiamoci sotto Ponte 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 Corra Krishna Che cazzo! Quanti colpi hai ancora? Ci uccideranno! Abbiamo forse altra scelta? Saltiamo! No, no, è troppo alto, non sai nuotare. Ti aiuto a salire e corri di là. Merda! Oddio! Mi terrai a galla! Ellie! Non abbiamo tempo! Ellie! Andiamo! Ellie! 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 Visto? Che ti ho detto, eh? Sta bene. Va tutto bene. Sai, è Sam che vi ha visto. Avete tirato su un bel po' d'acqua quando... Ma che cazzo vuoi? No, Harry! Mi stai indietro tu! È incazzato, ma non farà niente. E sei proprio sicuro? Basta! Joel! Ci ha lasciatela fuori a morire. No, era probabile ce la faceste. Ed è stato così. Ma fossi tornato per voi, avrei messo in pericolo lui. Stai indietro. Se è stato il contrario, sareste tornati per noi. Ti ho salvato. Ma in effetti... Ha salvato anche me. Saremmo annati. Saremmo tornati. Tranquillo, piccoletto. Tutto ok. E per quanto valga, sono felice che vi abbia visti. La torre radio è dall'altra parte della scogliera. Ok? Il posto è pieno di provviste. Sarete felici di non avermi ucciso. Ehi, cerchiamo in questa zona. Vediamo cosa troviamo. Beh, è stato intenso. Stai bene? Sì. Troviamo quella torre radio. Il granchiatto. Ehi, magari in quella barca laggiù c'è qualcosa. Ti hanno gli occhi aperti. Ci avevo già pensato. Che spettacolo. Vediamo un clicker. Cosa? Beh, quando è in acqua la questione è diversa. Un passo per volta. No, aspetta. Non è questo, all'ultimo. Antiparticella. Non è questo. 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 E questo. È da avia al costo, all'inferno. Oh Jesus, Shando Geniant da questa porta no, sì, questa sì non si può andare di qua per un secondo ho pensato gli avresti sparato già, ci è mancato poco sono a posto credo sia una buona cosa avere il nicaragge lo penso anch'io quindi lì non si può andare ma a quei tempi avevano tutti una barca sì, io avevo uno yacht di venti metri davvero? no un sarcasmo facciamo progressi uno yacht di venti metri sì, mi sa che abbiamo trovato qualcosa andiamo a vedere cos'è scommetto che arriva fin dall'altra parte ok ok, insieme forza dai, passiamo per le fogne ok, dai ragazzi, via ok, andiamo ehi, fuori le torce Sam, resta qualcuno sta imparando che bella fine che belle fogne rigogliose ah, grandioso questo può entrare? secondo me grandioso posto di qua ci siamo quasi no, capace qui però, Ellie adesso vediamo la prossima qua e io mi fido di Ellie no magari c'è qualcuno ah, iniziano oh, guarda ah città eppuccata se riesci ad aprirla striscia dentro e sblocco la porta oh schiavo lo sentrasti o no oh Sicuramente potevo passare anch'io Non di qui intendo Dove mi stavo rampicando prima Siccome c'è le Da lì si può passare Forse Forse no Dai è lì Vediamo cosa c'è Scotch Sì che bello Vediamo quanto ne ho 15 Un pezzo da 50 Nota Fonia Non notare per le fonia Massimo Beh è andato bene Di qui dove si va? Ah si si va dove? Sto andando a Harry Ma che ne pensi? Possiamo uscire da qui Ah non c'è modo di arrivarci Beh io non so nuotare Allora siamo in due Ok Joel Come attraversiamo Potremmo inventarci qualcosa C'è una volvolo qui Ehi questa affare è su una specie di binario Forse possiamo usarlo in qualche modo Ehi questa affare è su una specie di binario Questa affare è un generatore Un generatore Quello? Quello? Aspettate lì voi Non ci arrivo a macchina c'è qualcosa no però che figata non ci arrivo neanche qui oh bene vediamo che c'è qui sotto ecco cosa c'è ottimo dove si doveva andare Henry fai una prova ok io posso vado a vedere tieni gli occhi aperti oh Gesù perchè devo andarci sempre io per primo a esplorare a fare pulizia guarda cosa c'è questo lo posso buttare per trascinare oh merda merda no sei solo no non devortare niente non devortare niente non devortare niente non 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 utsimo così la posso trascinare da loro però qui cosa c'è rifornimenti Andiamo va Andiamo Elvi No, ecco fatto, astuto Ah, non vedo l'ora di uscire da qui Carina, Elvi, non so non andare Vai Comunimino il generatore Ok, vediamo se il generatore è qua Tentar non nuoce Ciulala Mi fa definire l'acqua No Cazzo Mi fa definire le cazzate che sparo Sì Già, ma non portare spiga Ma cazzo di voi come faccio a salire Tiratevi strozzi Sì 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 La mano Bisogna Sì 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 Ormai Sì 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 Forse Dobbiamo davvero entrare lì Non abbiamo scelta Aspetta che ci sono dei fornimenti Funzioni per la pistola Ok, caricatore piano Oh, attrezzi Di livello 3 Di livello 3 Oh, guarda Trafola sonora Una che? È una specie di allarme Io non sento niente Qualcuno viveva qui Ma non più a quanto pare Sì Chi vivrebbe qui dentro? Qualcuno che credeva di poter tenere al sicuro un posto come questo Sicuramente c'è ancora qualcuno O è diventato un infetto Oh, guardate Figo Ragazzi Fantastica Ellie, non... Rilassati Ehi, Sam Sì Harry, hai visto? Senza far rumore, ok? Sì Giocando al caos Mi pare il momento Bombe potenziate Sì, diciamo, è una minchia Però Vediamo qui, ragazzi Aspetta Aspetta, continuiamo adesso Velocità di fabbricazione Velocità cura mi serve di più Massimo Aspetta Questa nello 2 le devo avere Facciamo 3 Aspetta, così Nooo, non fare cazzate Io credo che il tizio sia ancora qui in giro Ci stia aspettando Oppure è diventato Un clicker Versione colazzato Che schifo, guardate le blood Silenzio Non Adesso Ora si la giorni Non, non, viste ma Dai, dai, dai Tonto. Beh, ora sappiamo che è successo a questa gente. Visto che c'era un clicker, direi che hanno fatto una brutta finita a tempo. Continuiamo ad avanzare. Speriamo solo che non ce ne siano altri. Lo so, è improbabile. Ma non ho capito una cosa. Aspetta. Usa le stesse munizioni. Ah, non uso le stesse. Va bene, va bene. Di lì, io vado di qui. Eh, morti da parecchio. Nota. Ah, non uso le stesse. Ah, non uso le stesse. Andiamo, signori. Oh, cazzo. Ratti enormi. Per quello non sto usando il kit, perché non trovo... ...cibo e barrette energetiche. Libero. Ho giocato libero bambini. Calaveri. Cazzo. Le ho uccise. Minchia, poverini. Eh, vabbè. Per scambiare? No. Anzi, già che mi son ricordato... ...dolicità cure. E poi... Inziamo. In pratica, se l'hai ucciso, l'hai ucciso anche i figli. Ah... Forse. Ma non potrei spingerti lassù. Magari c'è un'altra strada. Tipo quella. E questa invece dove porterò? Sì. Sì. Tutto ok. Sono stato io. Ho fatto scattare un cancello di sicurezza. Henry, proviamo a sollevarlo. che situazione. Sì. Io so come... Clicchi! Cosa? Questa cosa non si sposta. Andiamo fuori di qui. Sam, stagli vicino. Henry, cazzo, muoviamoci! E tu proteggilo! Via! Qui. Io, tre, quattro. Cinque. Cinque click. Un po' di fucilato e via. Ragazzi... Sì. Sì, lo so. Ok, ragazzo. Cerchiamo di trovare una via d'uscita da qui. D'accordo? Ok. Ragazzi, ci vediamo al prossimo gameplay. Ciao a tutti.